Per me in questi anni il rapporto tra gallerista, curatore e artista si è modificato tantissimo. Si è partiti da qualche decennio a un rapporto più umano, più caloroso e anche di frequentazione al di fuori da quello che è l'ambito artistico e si è tradotto in un aspetto di velocità, non c'è più quell'attenzione da parte dell'artista di spendere del tempo fisico per andare a vedere fisicamente quello che sta facendo perché si basa tutto sulla velocità. La velocità di un dipinto diventa un replicante perché c'è la necessità e anche la spinta di vendere perché sono leggi dettate da un mercato che ovviamente mette in esposizione meno quello che è l'aspetto artistico dell'artista anche personale e biografico per la semplice vendita e questo secondo me è una perdita, una perdita di valore, una perdita culturale e soprattutto non si capisce cosa l'artista pensa del proprio dipinto, di quello che sta realizzando. Quindi c'è da riprendere in mano un po' questa situazione e riportare il rapporto umano dell'artista col curatore e con il gallerista e che è fondamentale. Uno deve entrare nel dipinto che acquista attraverso il pensiero dell'artista non puoi acquistare solamente un dipinto per appenderlo ma devi capire lì dentro cosa è stato per l'artista, il suo trascorso e come è partito per arrivare a quello che poi ha realizzato.